Direttamente da Lavana ecco il sigaro più lungo del mondo, ben 45 metri di tabacco di prima qualità. Un record da Guinness dei primati festeggiato a suon di musica, danze e tanto rum. Il suo creatore non ha bisogno di presentazioni, si chiama José Castelare e ha iniziato a rollare all'età di 5 anni. Una prova d'orgoglio la sua per riprendersi il primato che è già stato suo per tre volte nel corso del millennio. Nel febbraio del 2007 infatti è stato scalzato da un certo Patricio Pena che ha realizzato un sigaro di 31 metri in Porto Rico. Una parentesi brevissima e inaccettabile, d'altronde è a Cuba che nascono i sigari migliori del mondo.